Welcome back creator! Abbiamo un bel po' di news questa volta, ma soprattutto la rivoluzione degli shorts, perché ci sono delle novità che ci fanno capire cosa sta avvenendo dentro e fuori YouTube. Partiamo dalle notizie velocissime, giusto per allinearci. Allora, ci saranno delle novità sull'upload, avremo la possibilità di usare i template di upload, quindi avere diverse titoli e diverse descrizioni, così possiamo, a secondo del nostro formato, caricare di default titoli e descrizioni e altre cose. Questo è molto importante. Si potrà fare l'upload dei video direttamente da Drive, quindi salviamo un sacco di tempo. Il pre-check della monetizzazione e del copyright sta per arrivare anche sull'upload in versione mobile. Inoltre, la funzionalità creator on rise, i creator in ascesa, le creator in ascesa, sta per arrivare anche in Italia, quindi nelle tendenze, andate a vedere le tendenze di YouTube che sono cambiate, ci sono varie iconcine, vedremo anche i creator e le creator in ascesa. Molto molto utile. E poi la funzionalità clip, che permette agli spettatori di creare delle clip, sarà allargata a 10 volte il numero dei creator attuali. Quindi speriamo anche in Italia di vederla, le persone potranno creare i clip o le clip dai nostri video. Ma parliamo degli eShorts, perché stiamo parlando di numeri importanti, si parla di 6,5 miliardi di visualizzazioni al giorno e ci sono delle cose veramente, delle novità importanti da dirvi, da parlarne, perché è fondamentale. Allora, innanzitutto hanno aperto il fondo per chi crea gli eShorts, fondo economico. Andranno a distribuire veramente un sacco di soldi a chi crea gli eShorts, stanno cercando di attirare tutte le persone che creano video corti e portare queste persone su YouTube. Molto importante, una cosa da tenere in considerazione, è la monetizzazione. E qui incominciamo il tasto dolente per chi per anni si è speso su YouTube a cercare di raggiungere quelle 4.000 ore all'anno e quei 1.000 iscritti. Gli eShorts, la monetizzazione degli eShorts sarà dedicata a tutti, a tutte le persone che... Non c'è bisogno di nessun limite. Mi ricorda la YouTube di un tempo. E un grandissimo schiaffo a tutti quelli che hanno investito tanto tempo per riuscire a diventare partner sarà slegata dal programma di partnership. Perché questo? Perché altrimenti non potrebbero garantire delle entrate economiche a chi arriva ora sulla piattaforma. Basta rispettare quelle che sono le norme della community e si sarà automaticamente disponibili a monetizzare. Monetizzazione che sarà tra uno Shorts e l'altro, sta per arrivare, è già in America, è in India, è attiva, negli Stati Uniti è in India, è già attiva la funzionalità. Guardando uno Shorts, praticamente la stessa esperienza di TikTok, quindi si va in verticale, l'advertising ci sarà tra uno Shorts e l'altro. Quindi tutti possono diventare e incominciare a guadagnare. L'importante è avere dei contenuti originali. Lo ricordano quelli di YouTube, dicono sostanzialmente che non bisogna caricare video da altre parti. E questo strizza un occhio molto importante perché in tutto il mondo è difficile monetizzare i videocorti. È davvero molto difficile incominciare a guadagnare con i videocorti. Quindi YouTube un po' torna alle origini, un po' dà uno schiaffo a tutti quelli che si sono impegnati, sono impegnate nel cercare di diventare partner e slega questa cosa. Vedremo come andrà il futuro, non credo che sarà slegata per sempre, ma è ora tanto per attirare tanti pesciolini nel suo lago. Grazie YouTube per tutto quello che ci ha reso difficile e che ha tanti altri lorem di facile. Ora, hanno dato una serie di consigli secondo me importanti per quanto riguarda la creazione di questi Shorts. E quindi vi volevo semplicemente parlarne, parlare con voi di che cosa è che bisogna riuscire a fare per quanto riguarda gli Shorts. Perché quelli di YouTube hanno dato delle indicazioni forti. Addirittura, ad un certo punto, la persona che si occupa della comunicazione di questi Shorts ha detto che possono essere caricati sul primo canale, sul canale principale, oppure, forse, è meglio, conviene, usiamo le parole che più ci piacciono a noi, non a loro, aprire un secondo canale. Un secondo canale dedicato agli Shorts. È incredibile questa dichiarazione da parte di YouTube in modo ufficiale, spinge le persone a creare un canale apposito, che non è sbagliato. Però, prima di arrivare a questo e a cosa fare, alcuni consigli veloci. Innanzitutto, sono fondamentali i primi secondi, ma questo vale su tutti i video, ovviamente. Bisogna incuriosire, bisogna far restare gli spettatori, le spettatrici, bisogna riuscire ad attirare l'attenzione. Ok, questo lo sappiamo. Sono importanti i primissimi secondi, ma cosa molto più importante è quello che loro chiamano replayability, cioè la possibilità che un video venga visto più volte, venga fatto play più volte. Perché questo? Perché secondo tutti gli algoritmi, sia di YouTube, di TikTok, eccetera, eccetera, questo è un parametro veramente importante. Riuscire a fare in modo che il video venga visto più volte. Valeva anche prima su YouTube, anche prima, infatti, lasciare lo spettatore o la spettatrice con la voglia di riguardare il video e di condividerlo è sicuramente un aspetto importante per i video classici, ma qui diventa fondamentale. Forse è uno dei pochissimi parametri realmente oggettivi di un qualcosa che riguarda l'engagement per quanto riguarda i video. Poi YouTube consiglia di prendere le tendenze, le solite cose, ma poi c'è un'altra indicazione importante che è quello di dire di suscitare delle emozioni. A volte queste emozioni sono molto legate alla simpatia e questo è vero perché la maggior parte della produzione di questi video è rivolta a qualcosa di ironico oppure a qualcosa di talmente tanto speciale che ti fa scoprire qualcosa di nuovo come può essere nel mondo dell'education. Quindi la domanda è ma cosa bisogna fare con gli shorts? Dal mio punto di vista bisogna cercare di creare dei contenuti sempre verdi. Questo è importante, contenuti che valgono sempre. E poi bisogna vedere se abbiamo un canale talmente fatto bene che vale la pena sporcarlo con gli shorts o aprire un secondo canale. Questo è una valutazione che resta al singolo, alla singola persona in questo caso. Il mio consiglio è quello di valutare se il nostro canale è stato progettato per bene e se tutti i video sono realmente collegati uno all'altro e sono davvero molto importanti, quindi magari non lo inquinerei. Facciamo qualche esempio. Domenico Pacifico Kiss from the World, documentari lunghissimi, importantissimi, un canale che è davvero una bella chicca. Ecco, in quel caso io non farei gli shorts dentro il canale ma ne aprirei un secondo e metterei in rilievo il canale degli shorts sul primo canale perché si può fare benissimo come c'è su Creator Pro che c'è Fast Forward. Oppure Roberto Mercadini, per esempio, non farei gli shorts. Ecco, incomincia a diventare forse un po' diverso, facciamo un altro esempio, il canale di Andrea Ciraulo. Forse lì non andrebbe fatto un secondo canale perché andando a vedere quelli che sono i video che fa Andrea, Andrea fidelizza molto e sono video su tanti strumenti, quindi non c'è forse la necessità, cioè non è che si sporca il canale. Ecco, queste sono le considerazioni così tra di noi che io, diciamo, farei come se fossimo tranquillamente a parlarne. Fast Forward, per esempio, non ha bisogno di fare un secondo canale sugli shorts perché ogni video è diverso. Creator Pro probabilmente è la stessa cosa, anzi, i video shorts potrebbero essere proprio un format a parte dal mio punto di vista. Quindi queste sono un po' le cose. Mi piacerebbe tanto capire cosa ne pensate voi creator, mi piacerebbe un sacco vedere come le state recependo, cosa volete fare, cosa vi piacerebbe fare, che dubbi avete, magari facciamo un Q&A dedicato agli shorts, sarebbe molto bello. Ho una live, sapete che sono su Twitch, twitch.tv slash giorgiotave, dove ogni tanto faccio anche delle live solo di Q&A e robe di questo tipo, poi taglio tutti i video e li porto in giro nei vari canali. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, queste sono delle novità veramente molto importanti, questo fatto della monetizzazione per tutti mi ha un po' scioccato, siamo tornati un po' indietro, però insomma è quello che YouTube ha scelto di fare e noi ce lo teniamo così. Va bene, con questo ho concluso e come sempre, come dagli ultimi video, see you later my creator! E ricordatevi che sono su Twitch, dove potete tramite l'abbonamento anche gratuito di Amazon Prime, quindi potete farlo gratis, sostenere questo grandissimo progetto di divulgazione che si porta tramite video, anche la classe ROAD210.000, è un modo per sostenere il progetto, aumentare i contenuti e aumentare la qualità.